Ciao a tutti e a tutte, io sono Carme, io sono Angela e insieme siamo le Martinos! Allorissima! Video di oggi! Cosa facciamo? Era da un po' che non lo facevamo e quindi abbiamo deciso che lei, nello specifico, comprava delle buste e le aprivamo. Diamo il via libera alla nostra parte bambinesca, quindi proprio libertà assoluta in questo video. E quindi apriamo buste di giochi partendo secondo un ordine che c'è stato impartito dall'esterno. Sì, è la voce fuori campo che adesso deve stare zitta. Esatto! Allora, abbiamo la mascotte qua di fianco. Partiamo con la busta dei PJ Masks. Ok, vai te zia, apri! Eh, perché è mio figlio e quindi è qua, è la zia. Allora, ce l'ho fatta e pescherò una cosina. Più o meno ce l'ho fatta. Dai, andiamo. Porta! 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 Così siamo incomodi! Andiamo! Veramente le fanno anti... Te l'ho detto, è anti... Si rompe tutto ma non si apre la busta. Ok, adesso si apre. Io vedo una testa a sbucare. Dai! Perché è una testa a sbucare? Ecco, se sentite una voce fuori campo è sempre lui. Che deve stare zitto, vero Gigi? Allora, vai! Pesco una cosa alla zia e una cosa alla mamma. Allora, ho pescato una busta. Non abbiamo detto quanto costa questa busta. Quattro e novanta. nonostri giustizia nasce lavora. Ok, anche qui e va. Vorremmo un po'. Chi si possono trovare i personaggi dei fysim vector. C'è una busta con una busta. Uh! Che fortuna! Busta di butto e butto a terra dopo ti raccolgo, vediamo, 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 io ho trovato un gatto boy, io ho trovato una macchina, ma che carina, è la macchina, è la cosa di guffetta, com'è che si chiama il gufaliante, come si chiama, gufaliante, gufaliante, c'è le aiutante per la zia, ma sono timbri, dove è finito il fogliettino, è un fogliettino che mi è caduto, è un cartoncino, allora ci sono dei timbrini, questo in questo caso è quello che ho trovato io del gufaliante rosso, voglio provare, e questo qua, non so se si vedrà niente, è gatto boy, il mio al gufaliante, perfetto, andiamo a andare, silenzio, silenzio in aula, grazie, prego, tieni, la provo io, dopo la ridò subito, no grazie, puoi tenerli, vai, ok, via, è rimasto, niente, è finito, beh, a posto, per 4,90 euro posso dire che è, aspetta, però vediamo quanto costano queste cose, perché magari, beh, comunque la bustina costa 3,50, è singola, ok, quindi sono due bustine a 7 euro, quindi dai, tutto sommato, più il libro ok, ora, vai lol, apriamo, questo è per l'altra, è la versione femminile, lol, vai, distruggerò di nuovo tutto quanto, vediamo, 3, passano dalla regia, dalla regia mi passano i timbri, ecco, ecco, vuole far vedere, ecco la cosa ha realizzato il mio bimbo, bellissimo, complimenti, bravo, è un'artista, lol, lol, io sento una cosa morbida e prendo una cosa morbida, pallina, squishy, 7,6 cm, Sida, se lo fai provare lo squishy, dopo, e vi confermiamo nuovamente, ci sono solo queste dentro, sì, solo queste due, e il libricino, però anche queste costeranno, secondo me, sempre forse lo stesso prezzo di prima, probabilmente sì, ok, vediamo, pronti? noi abbiamo la regia che impartisce ordini, voi non lo sentite forse bene, però fa, metti a posto, fai questo, la mia è una super slow rising, è uguale, fammelo provare a me, sì, adesso, la mia è rosa, e la mia è azzura, ma sono strane, sono tipo spiccico, e salgono, eccolo, a posto, sembra uno scuscio unicorno, sì, adesso voi sentite parlare, sì, non ti preoccupare, però adesso la mia regia mi aveva promesso che stava in silenzio, sì, e ci sta, bravo, bravo, allora, ora, sempre dalla regia, perché noi siamo tutte comandate in questo video, mi è stato detto di aprire questo, il trenino Thomas, quindi, vai, scavicchia tu, questo costa 9,90 euro, è più grande, infatti, guardate, vediamo, esatto, vai, la regia cerca di prendere sempre più spazio, voi non lo vedete perché è in basso, ma c'è un piccolo microbo, ecco la maniera che spunta, ancora, vuole salutare di nuovo, saluta, bravo, a posto, allora, vediamo, eh, cosa abbiamo trovato, allora, ah, va bene, allora, io ho trovato due giornali, il giornalino di Thomas, bello, dove ci sono anche i poster, le storie di Thomas, beh, carino il giornalino, poi, io ho trovato, invece, Thomas Adventures, con Kevin, che credo che sia una gru che solleva roba, sì, Kevin, sì, ha la gru, io ho trovato l'ultimo regalo, c'è due giornali, che è un trenino, che è Nia, ma, sono quelli elettrici? No, stavo guardando se fossero quelli elettrici, tra di loro, no, explore, no, niente, in metallo c'è scritto, sì, comunque, questi qua, non mi ricordo quanto costano, però, costano 6-7 euro, più o meno, 7 euro, quindi, potremmo esserci anche come costi, allora, rimettiamo qua dentro, rimettiamo e passiamo, mettiamo tutti i giochi di uno, ecco qua, passiamo alla regia, i suoi treni, con anche i PJ Masks, ci sono regia dentro, sono anche PJ Masks, quella è la sua busta, e poi, l'ultima, che sono questi qua, i Meteo Heroes, questi mi piacciono tantissimo, costo 7,90, questo sono un cartone, che danno su, cartonito, sono degli eroi del meteo, per l'ambientalismo, per salvaguardare il pianeta, esatto, sono carinissimi, sì, sono proprio carucci, ce la fai? Eh, ce lo schiacce, a me la crema l'occhio, se vedete che mi fico un dito nell'occhio, perché mi stava cremando, yuhuuu, io, vai, peschi, peschi, uh, bello, l'album da colorare, col pennarello magico, col pennarello magico, infatti sono, quello dei pennarelli magici, bellissimo, piace tanto, io, poi, beh, questo è proprio carino, è un'enigmistica, che forza, è un'enigmistica di Meteo Heroes, con l'enigmistica Playpress Giochi, impari e ti diverti, e c'è anche il QR code per il podcast, che forza, è un po' carino, è un po' carino, cos'è? Ah, stickers e colori, disegni giochi e colori, questo qua è un po' carino, l'enigmistica, non l'abbiamo detto i prezzi, no, 3,50 euro, 4,50 euro, e questo qua, sarà scritto avanti, 4,90 euro, pagata 7,90 euro, direi che, e questo è un, stickers e colori, sono i giochi, ci sono i giochi, per bimbi, ma che carino, cazzo, quindi questo va bene per, per la mia bimba, faccia elementare, esatto, elementare, e infine, l'ultimo, sempre un altro, diversa versione, questo è quello che ha, tirato fuori Carmen, questo è quello che, ho tirato fuori adesso, sempre stickers e colori, quindi, come costo, sarà uguale, sì, sempre 4,50, e ha dei giochini diversi, all'interno, guarda, quello è di dicembre 2020, diciamo, e questa è la versione 1, è il numero 1, del 31 ottobre del 2020, quindi un anno fa, neanche poi, esattissimi, che è un bimestrale, bene, sono finiti, sì, sono finite come buste, secondo me, la più bella è stata, quella di Meteo Heroes, il trennino top, il trennino Thomas, perché c'è i giochi, ok, no, a me piacciono, cioè tu sei troppo intellettuale, io sono più, no, a me piacciono gli stickers, a me piacciono i giochi, a me piace colorare, esatto, a me piace colorare, e quindi, niente, per questo video è tutto, speriamo di avervi, come al solito, tenuto compagnia, sì, se vi va, che ci farebbe più che piacere, di iscrivervi al canale, cliccate su iscrivi, iscriviti, penso ci sia scritto, sì, direi, comunque qua c'è il tastino, con noi due, esatto, spolliciate in su, se il video vi è piaciuto, ce la farò, però puoi, mi intrippo sempre, ok, campanellina, per avvenire aggiornati, sulle nostre, super idee, e, un commentino, nella sezione, commenti, sempre garbatamente, mi ha colta la sprobista, mi ha preparato, mi ha preparato, bene, noi vi mandiamo un grandissimo bacio, e speriamo di rivedervi, nel prossimo video, ciao, noi dobbiamo mettere tutto a posto, esatto, dobbiamo mettere tutto a posto, e speriamo di rivedervi,